Ed eccoci allo sport per questo 27 settembre, è già sul banco degli imputati Alessandro Nesta per una partenza del campionato del Perugia a sottotono, 4 punti in 4 gare, addirittura il Corriere dedica 2 pagine nella cronaca regionale, Nesta sotto processo, ma diamogli tempo, lo dicono alcuni osservatori, tifosi speciali della politica, dopo la delusione playoff della scorsa stagione, l'eliminazione della Coppa e il duro avvio di campionato, una parte della piazza già in discussione, già mette in discussione, c'è chi fa il nome di Cosmi, ad esempio Vinti, Stefano Vinti e Flamini doveva esserci Serse, mentre gli innocentisti, diciamo, sono Bocci e Fioroni, serve più tempo, fiducia ad Alessandro, per i tifosi la colpa però è della società, tendono ad assolvere il mister, a scaricare le responsabilità sulla dirigenza, Nesta non deve avere paura, magari diventerà un grande, il sondaggio però del Corriere non dà molte chance al tecnico romano, l'88% lo vuole, come dire, fuori dalla panchina del Perugia. Andiamo a vedere anche il faccia a faccia proprio tra Nesta e Santo Padre che c'è stato ieri, Santo Padre confessa Nesta, gioco di parole visto il cognome del Presidente, drammatico confronto col tecnico, il Presidente ha seguito per tutto il giorno la squadra col Carpi, dovevamo vincere di mestiere la difesa di Bianco, siamo all'inizio, non si possono fare processi, alla lunga sono convinto che usciremo, non è tutto, da buttare domenica, ricordiamo, impegno a Cosenza. La Ternana che resta sulla graticola, non sa ancora dove giocare, anche se la Lega Pro gli ha intimato domenica di essere al Benelli di Pesaro, dunque in Serie C, altro rinvio, attenzione al Tar, rimandata oggi la decisione su chi dovrà fra Coni e TFN ridisegnare il format della B, c'è un clima di ostilità all'udienza, lamenta Ranucci. Ternana in attesa, faremo valere le nostre ragioni, il legale del club aspettiamo, cosa decide? Il Tar, i tifosi stanno aspettando ormai da due mesi. Sirce e la Supercoppa, vedo la lube favorita, dice il presidente Perugino, che ieri, non sappiamo se abbia esultato o meno, alle prodezze di Atanasievic e Podraskanini che hanno affondato la nostra nazionale ai mondiali, nella prima delle due gare della Final Six. Il presidente da Sirce dice tra Leone e Atanasievic non ci sarà problema, mi incuriosisce Lanza, voglio vedere chi ha ragione fra Lorenzetti e Bernardi. ha raccolti in tanti fondi per l'attivazione di 10 box del lavoro con il Memorial Baldaccini. De Cecco, proprio di ritorno dal mondiale, da cui è stata eliminata la sua Argentina, migliorare con tranquillità i Block Devil's Day, scena il primo di ottobre. Gubbio spento, è solo 0-0, eccoci qua al turno infrasettimanale di Serie C, fuori Ricci dentro dal primo minuto, Casiraghi e Casoli, a centrocampo più il tridente, ma niente gol. Ancora rimandata la prima vittoria del Rosso Blu, i Lombardi corrono pochi pericoli, difficile mettere insieme dopo la gara di ieri senza alcuna emozione e gli highlights, nel primo tempo con un modulo forse troppo offensivo, nella ripresa del 3-5-2. In casa per la squadra di Sandriani l'altro pari, Gubbio che sale a quota 2, ancora metà classifica, ma insomma latita la prima vittoria, Gubbio che non vince, pensate, al Barbetti da dicembre, quindi ancora deve vincere la prima gara nel 2018. Cosa dice il tecnico? Obiettivo salvezza, sia chiaro, non fatevi illusioni, in difficoltà dopo un buon approccio, Casoli al 30%, Campagnaccia al 50%, fatichiamo a trovare la porta, è vero ma mi sembra prematuro fare statistiche. Loro punto nel play-off, ricorda Sandriani, mentre Piccini ammette in mezzo, erano più di noi. Casiraghi corre a vuoto, Di Battista è autore dell'unica conclusione, ma insomma sono tanti i cinque, nella prestazione di ieri che andiamo a rivedere nel servizio di Giacomo Branco. Turni infrasettimanale, valido per la terza giornata del giorno ebbi di Serie C, ed è Gubbio contro Albino Leffa al Barbetti. 4-3 per Sandriani, con caso alle 100 campi e Battisti in attacco, 3-4-2-1 invece per Albini. Subito rosso-blu intraprendente al quarto minuto, crossbaffo dalla sinistra di Loporti, imbeccato da Casiraghi, Battista calcia, Gonzi lo chiude, ma la sfera donna Battista, che con una sventagliata mancina, trova la porta, ma Cosa e rintuffo respinge. All'undicesimo, la risposta seriana, con un destro potente su punizione di Giorgione, respinto con i pugni da Marchegiani. Al ventesimo, corner di Casiraghi, la difesa ospite spazza al limite dove c'è Campagnacci, controllo orientato, che manda al Bargelli e sinistra giro, pallone sopra la traversa. Albino Leffa comincia però ad avere il predomino del gioco, e al ventisettesimo, dopo un lungo giro palla, Giorgione, su sponda di sbaffo, controllo e calcia dalla distanza, pallone di poco, a lato. Al trentaduesimo, Battista, che offre dalla destra a rientrare, spaccata di Marchi, che anticipa la chiusura di Gavazzi, ma non riesce a trovare l'angolo, sul palo lontano. Due minuti dopo, angolo di Gelli, Marchi alza di testa Campanilla al limite dove c'è Giorgione, che spara un superbo destro al volo, che scheggia il palo alla sinistra di un basito, Marchegiani. Albino Leffa spinge e al trentadacinquesimo sbaffo, apre sulla destra per Gelli, cross in mezzo per Ravasio, che di testa da buona posizione alza troppo la gittata. Finisce così il primo tempo, e nella ripresa, dopo due minuti, ci prova Agnello dei trenta metri, Marchegiani blocca terra. Sandriani inserisce Schiaroli per Battista, cambiando modulo passando al 352, ma è lo porto a provarci ancora dalla distanza al minuto 54, ma il suo tiro cross è fuori misura. La gara scorre via l'isergica e al settantunesimo Marchegiani esce con destrezza sul subentrato Cuco, servitinare da Nicchetti. Al settantacinquesimo ci prova Benedetti su punizione che passa sopra la barriera, ma cosere attento. Ultima chance per i seriani al novantunesimo, con il colpo di testa dell'ex Stefanelli, che finisce sopra la trasversale. Pareggio giusto per un match equilibrato ed arido di emozioni. Ora il Gubbio cercherà la prima vittoria stagionale domenica, sempre alle 18.30, al Bonolis di Teramo. Ed è una prova tra luci e ombre, così la definisce la nazione. Solo un pari con l'Albino Leffe per il Gubbio, il team di Sandriani a caccia della prima vittoria stagionale, che ancora si fa attendere. Mentre il titolo ancora più eloquente del messaggero, Gubbio al Barbetti, non sa più vincere. Pari col Fiatone, quello di ieri, 0-0, che porta il rosso-blu a quota 2, ma insomma una classifica asfittica dopo tre giornate. Bisogna avere pazienza, il mantra recitato da Sandriani. E allora andiamo a vedere cosa è successo in Serie D, perché si è giocata ieri la terza giornata, turno infrasettimanale, è un Trestina invece, quello visto in campo, che fa sognare che Tris, secondo posto e tante certezze, Braccalenti, Ridolfi e Gallozzi, stendono l'Aglianese alle spalle della capolista Tutto Cuoio. C'è appunto il Trestina. Il Bastia è vivo e lotta, pareggio che è un punto di partenza, quello ottenuto a San Gimignano, mentre è pareggio anche per il Cannara, ma qui tra le proteste, 0-0 con la Massese, allo Spoletini, Massese intenzionato a centrare un risultato positivo, arriva un punto importante, recriminazione per un rigore non dato ai padroni di casa. Loro col Bari Centro Alto, noi bravi a chiudere i Varchi, dice il tecnico Farsi. Ieri in campo anche l'eccellenza, con le semifinali di Coppa, è la migliore orvietana, ma il Foligno tiene botta, apre gli urni, a metà ripresa ci pensa Zanchi, a ristabilire la parità. E poi il Sanzisto invece vola sulle ali di Russo, 4-2 sul campo dell'Ama, che prova a reagire, ottiene solo di dimezzare le distanze, appunto, sul 4-0. Questo ha detto la gara d'andata ieri sul terreno Alto Tiberino, oggi intanto a Gualdo, la messa in ricordo di Nello Saltutti, a 15 anni dalla morte del calciatore gualdese. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione, ripartendo dal Perugia, Grifo Santopare ora convoca i giocatori, deluso ma ancora fiducioso, il patron chiede colloqui individuali. Bianco chiediamo pazienza e fiducia, e come detto i biancorossi andranno a Cosenza in treno per la gara di domenica. Ternan attesa per la decisione del Tar, mentre la squadra si prepara la prima gara della stagione contro il Pesaro, che significherebbe accettare a quel punto la Lega Pro. Trestina contro il Reti si sbarazza dell'Aglianese nel turno infrasettimanale, mentre la pallavolo Sirsefti le premesse sono buone. Finalmente una partita vera, primo test in attesa del campionato e della Supercoppa, mentre gli ex Sir e anche gli attuali Sir in maglia azzurra hanno un brusco risveglio. Il 3-0 subito ieri sera dalla Serbia, che mette a repentaglio le semifinali, ora serve battere la Polonia nella serata di domani, vedendo anche che cosa succederà stasera tra Polonia e Serbia. Ma insomma, se la Serbia stasera sarà quella vista ieri, crediamo che per la Polonia ci sia poco da sperare. il messaggero, ripartiamo anche qui dal Perugia, con le pagine del inserto romano, scende in campo Santo Padre, titola tutta pagina il quotidiano romano, dopo le due sconfitte il presidente incontra il faccia a faccia il tecnico Nesta, che per ora non si tocca, Zamparini intanto caccia Tedino, se hanno problemi a Palermo, figuriamoci a Perugia, e riprende Stellone, inevitabile nei social il tamtam su Odde Camplone, a Cosenza prova d'appello, per tutti, intanto tifosi abbiate fiducia, dice Bianco, e sul fronte pallavolistico Leone è già caldo, mentre Monini, Ottaviani, ok a Spoleto. Siamo a Terni, ferie attesa snervante, quella per il Tar, Rosso Verdi col fiato sospeso, praticamente in apnea da agosto, ieri nessuna decisione arrivata dal Tar del Lazio, sulla composizione della B, ma in fondo siamo solo al 27 settembre, perché tanta fretta, alla vigilia della prima ricampionata in Lega Pro a Pesaro, la Ternana ancora non sa se verrà ripescata. Intanto Tennis Tavolo, la 1 maschile riporta, riparte, scusate, tutta dal Pala de Santis, sabato e domenica si dispondono le prime due giornate del massimo campionato. Infine il mercoledì di calcio tra i dilettanti, con Orvietano e Foligno tutto in dieci minuti nella Coppa, finisce 1-1, mentre Alcannara manca un rigore nel finale, in Serie D, Bastia primo punto e Brivido traversa, e poi Trestina quanto sei bella, tre sberle all'Aglianese. È tutto anche per lo sport, ma abbiamo come di consueto l'appendice del meteo. Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero, a Gubbio in Via dell'Arboreto. Un'occhiata con la grafica, le indicazioni di Riccardo Rossi, giovedì 27 settembre, giornata che si apre con cieli poco parzialmente nuvolosi su tutto il territorio regionale, nel corso della giornata rotazione dei venti, che da nord orientale passeranno a nord occidentale, con aria che determinerà un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, ma soprattutto in appennino e preappennino, senza rischio però di precipitazioni. Avremo un aumento leggero delle temperature, che aumenteranno ancora di più nei prossimi giorni, per oggi le minime restano tra i 12 e i 14, le massime risalgono tra i 22 e i 25 gradi, una tendenza che poi nel weekend vedremo stabilizzarsi in più in alto. Tutto il meteo, così come le informazioni, tornano stasera alle 19.30, le 20.20, seguite rispettivamente da TG Sport e TRG Plus. Vi ricordo, stasera una edizione speciale, anche se ovviamente ridotta di fuorigioco, dedicata alle immagini e alle interviste di Gubbio Albinoleff, di questo turno d'anticipo della Lega Pro, e ovviamente trgmedia.it nel corso dell'intera giornata. Per gli aggiornamenti, grazie, buona giornata con TRG.